E' iniziata l'avventura paralimpica della delegazione azzura di Para Powerlifting. Dopo l'ottimo quinto posto ottenuto da Silvana Stanco nella categoria del tiro al volo, nel primo step dei giochi a cinque cerchi di Tokyo, l'Irpinia sarà nuovamente protagonista con il coach e presidente della Royal Gym di Monte Calvo, l'irpino Antonio Di Rubbo, che preparerà l'atleta potentino di Pietragalla Donato Telesca, con loro anche il direttore tecnico Sandro Boraschi. Il professionista irpino da anni si impegna nella diffusione della pesistica olimpica e paralimpica sul nostro territorio e quindi arriva un momento di grande lustro per la nostra terra, che sarà rappresentata oltre a oceano nell'evento che incarna la più alta ambizione di ogni sportivo. Il 28 agosto Donato Telesca scenderà in pedana nella categoria 80 kg all'International Forum, lo stesso palcoscenico che qualche settimana fa ha visto tre pesisti italiani conquistare tre medaglie importanti alle Olimpiadi, con i bronzi di Nino Pizzolato e Mirko Zanni e l'argento di Giorgia Bordignon. Telesca, inoltre, è il più giovane atleta della sua categoria con i suoi 22 anni e arriva a questo appuntamento dal campione del mondo juniore e si incarica, ma anche da recordman europeo. Nell'ultima sua impresa ha sollevato 198 kg.